Benvenuti alla terza puntata della rubrica dedicata alla finanza d'impresa e ai rapporti con le banche. Questo video particolare in qualche modo può essere esteso anche alle persone fisiche perché oggi si parla di quale approccio tenere quando ci si accorge di essere vittima di un'errata segnalazione. Il tema diciamo può riguardare casi e fattispecie davvero molto diverse, si può passare dalla banca che mi sta segnalando un piccolo sconfino piuttosto che la banca che magari sta mettendo a sofferenza l'impresa o la persona fisica con un impatto decisamente molto diverso e ben più grave. È evidente quindi che già questo primo esempio vi evidenzia che cosa? L'importanza di saper distinguere fra quelle che sono errate segnalazioni di scarso impatto e quindi che meritano un'attenzione e anche magari un vigore e un'insistenza più lieve verso la banca da quelle che invece sono segnalazioni che davvero possono cambiare e stravolgere come dire la percezione di rischio che è associata a voi e che naturalmente in caso di illegittime segnalazioni deriva da un errore segnaletico e quindi da parte di uno o più istituti di credito. Attenzione ad un altro aspetto però che come dire parte da una nozione non così intuitiva. Io vi faccio vedere subito la prima slide perché è molto importante che si capisca una cosa. Quando si è vittima di errate segnalazioni bisogna innanzitutto capire in quale centrale rischi. Ok? E qui ovviamente fra quelle classiche è opportuno distinguere fra la centrale rischi Banca d'Italia e le SIC, CRIF, Experian, CTC e Asilea. Se osservate la slide ecco che ci accorgiamo di una come dire di un concetto non così banale e non così intuitivo. In centrale rischi Banca d'Italia le segnalazioni sono illegittime solo se sono errate. C'è un errore, la circolare e la normativa prevedono che gli errori non ci possono essere, badano rimossi ed ecco che è diritto del soggetto segnalato far valere il proprio diritto, scusate il gioco di parole, di essere correttamente rappresentato. Discorso decisamente molto diverso per quanto riguarda le CRIF. Le segnalazioni in questo caso sono indegittime non solo quando sono errate, ok? Ma anche quando non rispettano alcune regole. Esempio vizi di forma, vizi informativi, omissioni di informativa verso la clientela eccetera eccetera. Il tema quindi è molto semplice comunque da raccontare. Nelle CRIF una segnalazione di sconfino che è avvenuta veramente e quindi non può essere cancellata per esempio in centrale rischi se dovesse trovare rappresentazione appunto anche in quella di Banca d'Italia, ok? La segnalazione per esempio in CRIF potrebbe essere comunque tolta perché? Perché per quanto corretta non ha rispettato alcune procedure, è viziata da alcuni aspetti formali che consentono l'immediata cancellazione dello stesso. Quindi è importante che voi, come dire, sappiate collocarvi, ok? In quale centrale rischi siete segnalati e quali sono queste due macro regole generali. Il terzo aspetto da evidenziare, poi ovviamente io qua sto parlando alle imprese, ma se dovessi parlare i consumatori, sappiate che i consumatori sono oltremodo tutelati, ok? E alcuni vizi sono davvero rilevanti, ok? E possono di fatto anche contemplare delle rettifiche di segnalazioni corrette, ok? Anche nella centrale rischi Banca d'Italia. Quindi in buona sostanza, come dire, la regola delle SIC può essere stesa anche a quelle delle centrali rischi almeno in parte, ma solo per i consumatori, ok? Per le persone fisiche consumatori. Fatto questo chiarimento passerei alla seconda slide. La seconda slide in questo caso si riferisce alla centrale rischi Banca d'Italia anche perché è quella che di solito ha un impatto maggiormente dirompente, mettiamola così, per le imprese, è questa. Io qua vi ho riportato due specifici passaggi della circolare 139 di Banca d'Italia che appunto regola la centrale rischi e in particolare i passaggi ricavati dal capitolo 1, in un caso alla sezione 1 paragrafo 4 e nel secondo caso alla sezione 2 paragrafo 7. Questo per dirvi che cosa non voglio leggervelo, ma il concetto di fondo è questo. Banca d'Italia dà il diritto al soggetto segnalato di ottenere la rettifica in caso di presenza di errori. Le segnalazioni inesatte vanno quindi prontamente rettificate dalla banca, ok? Di fondo siamo in un contesto dove Banca d'Italia vuole che il proprio sistema informativo non sia inquinato da informazioni errate, ok? Che potrebbero di fatto danneggiare lo stesso sistema ma soprattutto l'attività economica degli altri istituti. Immaginatevi che io sia un soggetto altamente solvibile ma mi ritrovi ad essere segnalato come continuamente inadempiente, in maniera errata ovviamente, e quando vado a chiedere un finanziamento ad un altro istituto di credito questo giustamente si fida della centrale rischi, vede che presso altri istituti non pago e ovviamente mi nega il finanziamento. Quindi Banca d'Italia, l'Organo Superpartes vuole che le banche rispettino alla lettera questo tipo di informazione e lo facciano, attenzione, con particolare tempismo. Non so se vi ricordate cari imprenditori anni fa quando c'erano errate segnalazioni e la lettera, eh perdone, la banca scriveva una letterina che poi voi utilizzavate per mandare alle altre banche dove veniva raccontato che c'era stato un errore eccetera eccetera. Queste cose non hanno senso, non le avevano prima e non le hanno nemmeno adesso, che Banca d'Italia ormai è anni che scrive nero su bianco una cosa molto semplice. Le rettifiche non vanno fatte il mese dopo, due mesi dopo, quando vengono aggiornati i flussi del mese appena chiuso. No signore, scopro l'errata segnalazione oggi, oggi è il 7 di giugno. Cara banca, adesso, oggi, domani, dopodomani, con una certa celerità vai a rettificare il dato così che tutte le banche che guardano la mia centrale rischi non debbano aspettare le calende greche per vedere gli errori, ok? Lo scoprono subito e non devono nemmeno fidarsi della mia letterina che magari vi sarei potuto scrivere io da solo con photoshop, ok? Quindi, attenzione, le rettifiche, se, come dire, ottenute, vanno, come dire, attuate nell'immediatezza, ok? Senza aspettare tempi particolari. In alcuni casi addirittura Banca d'Italia prevede dei tempi tassativi, cioè se, per esempio, è un giudice o è la stessa Banca d'Italia a imporre ad una banca di rettificare il dato, ecco, il concetto vago di tempestività, ok, viene chiarito in tre giorni tassativi, oltre ai quali evidentemente c'è un effettivo inadempimento della banca che doveva rettificare entro quei termini. Adesso non vi voglio annoiare su queste cose che sono un po' da legale, da tecnico. Passiamo alla terza slide e vi faccio vedere, vi ho preso due casi di Centrale Rischi e Banca d'Italia, vi faccio vedere come si leggono le, come dire, le rettifiche del dato. Guardiamolo. Questa è una visura ottenuta da un soggetto segnalato e in riferimento a Intesa San Paolo, SPA, ok, non ho voluto nemmeno annerire, come dire, i nomi anche perché, ve lo dico subito, se pensate che le banche siano immuni da errori vi sbagliate di grosso e se pensate che le banche debbano pagare col sangue tutte le errate segnalazioni che possono, come dire, di cui possono essere protagonisti, anche in questo caso vi state sbagliando. Errare è umano, ok, a meno che non siano, come dire, errori sistematici e gravi, ok, sarebbe buona cosa che si apprezzi quell'istituto che nell'errore però lo riconosce e non crea difficoltà nel interagire con voi, magari nello spiegarvi anche che cosa è successo e soprattutto nel rettificare con prontezza il dato. Ora vi faccio vedere questo passaggio segnaletico perché ve lo racconto così possiate, in modo tale che possiate anche leggere nel caso di capiti, come la dinamica segnaletica si è evoluta all'interno della vostra centrale RISC. In questo caso, banca intesa, guardiamo l'ultima linea, diciamo così, quella in corsivo, dal 3 di giugno del 2020 fino al 24 di luglio del 2020, quindi per quasi due mesi, ha segnalato questo rischio a scadenza caratterizzato da uno sconfino relativamente piccolo, ma a seconda dei punti di vista. Questo sconfino però si è, come dire, verificato essere errato e quindi il 25 di luglio del 2020 è stato corretto. Corretto come? Guardiamo la linea sopra. Corretto evidenziando che cosa? Che i livelli di accordato, accordato operativo utilizzato erano tutti e tre pari, identici e quindi non c'era alcun evento di sconfino. Ok? Letta in un altro modo, la linea ultima sotto è quello che chiunque, chiunque, qualsiasi banca o lo stesso soggetto richiedente avrebbe potuto leggere dal 3 di giugno fino al 24 di luglio, ok? Fintanto che non interveniva la rettifica in questione, ok? Notate la data di correzione che è quella del 25 di luglio, come vi anticipavo, correttamente, banca intesa, non ha aspettato i normali flussi che si sarebbero verificati dopo ulteriori 10-15 giorni. No, l'ha fatto correttamente, subito, a tutela del cliente, ok? Un altro caso che vi voglio evidenziare, questo non è un caso di rettifica, ma è un esempio che mi torna utile a raccontarvi che cosa? Che le rettifiche, come vi dicevo proprio all'inizio di questo video, vanno richieste con la consapevolezza dell'errata segnalazione, dell'importanza e del valore dell'errata segnalazione. Nel caso che abbiamo visto prima, effettivamente, banca intesa segnalava un rischio scadenza, probabilmente un finanziamento, ok? E lo segnalava sconfinato. Giustamente, a tutela del proprio stand in creditizio, l'azienda ha chiesto la rettifica, ma guardate, ve lo posso assicurare, non ha fatto scrivere all'avvocato, non ha speso soldi dell'avvocato, e non ha nemmeno speso i soldi di un consulente tecnico che doveva verificare i cavi, no! Ha parlato apertamente con l'istituto, si è confrontato, ok? E ha ottenuto quello che doveva ottenere. Ovviamente non è andato lì a battere i pugni, a minacciare chissà che cosa, ok? Il rapporto, il primo tentativo nelle relazioni con il proprio istituto di credito deve essere fatto in maniera costruttiva. Può essere fatto tramite una semplicissima mail, un accordiale mail, voglio sottolinearlo, ok? Piuttosto che attraverso una telefonata, ok? Se è necessaria una seconda comunicazione, allora sì, vi consiglio di scrivere un'email, così si lascia traccia. In questo caso è necessario, perché così si costruisce un track record. Provabile nel caso ci fossero problemi, spero di no. Però diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi è nell'interesse dell'istituto rimuovere gli errori, ok? Certo che se voi partite in tromba richiamando cause, danni, eccetera, eccetera, quando poi magari di solito non ci sono, non sono provabili, ecco che la banca si mette subito sulla difensiva. Poi cosa succede in altri casi? Che di fronte ad errori macroscopici e gravi come questo, tutto passa in sordina, cioè è la stessa azienda a non fare nulla, a volte perché non se ne accorge, a volte perché non si accorge del pericolo sottostante all'errata segnalazione. In questo caso vi sto facendo vedere una visura, un passaggio segnaletico prima a dicembre del 2020, poi a gennaio del 2021. A gennaio del 2020 la banca segnalava fidi per 200.000 euro correttamente utilizzati. Il mese dopo li segnala identici ma utilizzati per 202.200 euro, quindi uno sconfino di 2 euro. Ovviamente l'azienda percepisce questa segnalazione come un'inezia e sarebbe effettivamente anche così, peccato che trascura il fatto che l'istituto di credito allo stato del rapporto segnala erroneamente che questo sconfino di 2 euro, ok, si trascina da oltre 90 giorni. Uno dirà ma come è possibile? È evidente che è errato, certo che è evidente. Se a dicembre non c'erano gli sconfini, dopo 30 giorni, ok, 30-31 giorni, è evidente che se lo sconfino di 2 euro è corretto, a prescindere non può essere, non può avere una durata continuativa di oltre 90 giorni. Ora, cosa significa andare in banca e chiedere la rettifica di questa segnalazione? Significa solo una cosa, capire le ragioni e i motivi che hanno generato questa segnalazione. Per la banca significa rimuovere le cause in modo tale che non ci saranno più problemi in futuro e per voi significa, per esempio, rimuovere una segnalazione nello stato del rapporto che vi potrebbe creare dei problemi in futuro. Se per esempio questo sconfino dovesse continuare anche a febbraio del 2022 e magari al posto che 2 euro raggiungere la cifra di, non so, più significativa, ecco che potrebbe questa segnalazione, del tutto errata in termini di continuità temporale, generare un aller grave, perché comunica al sistema che voi probabilmente siete protagonisti di una credito deteriorato. Chi non sa cos'è un credito deteriorato deve iscriversi al canale, ok, attivare la campanellina e seguire tutta la rubrica dedicata alla centrale rischi. Questo tipo di segnalazione è fondamentale perché ben prima di un'eventuale segnalazione o sofferenza è già di per sé indice di un grave stato di difficoltà e quindi di una scarsissima probabilità di accedere al credito. Diciamo che per oggi è tutto, se vi è piaciuto mettete un bel like, diffondete il verbo, dite ai vostri colleghi, ai vostri conoscenti di seguire anche loro queste rubriche perché non solo ci si sforza di raccontare di cose che poi spesso e volentieri possono essere applicate nel quotidiano, ma alla lunga queste regole, questi consigli vi consentiranno di accedere a maggior credito e a minor costo. Ve lo posso garantire e ve lo dico non fra vent'anni ma già nell'immediato la cura della propria centrale rischi e quindi individuare eventuali errori, saperli correggere e saper anche mantenere un buon rapporto con l'istituto di credito che vi ha commesso l'errore ma che vi ha rettificato la segnalazione in maniera pronta e trasparente, ecco che è la migliore e miglior presupposto per un futuro sicuramente molto più roseo rispetto a chi invece le segnalazioni errate le trascura del tutto, quindi va in giro con un bel cartello con su scritto sono un cattivo pagatore diciamo così sono inaffidabile, piuttosto di chi invece le errate segnalazioni nemmeno le sa leggere, quindi nemmeno le cerca, non le sa proprio leggere come in questo secondo caso che vi ho fatto vedere. Grazie ancora, grazie dal club, grazie da Luca Martini e alla prossima, ciao!